Sono dati allarmanti quelli provenienti dal settore infortuni sul lavoro nella nostra regione. Incrementi fino al 13% sono stati infatti registrati in alcune province siciliane, tra cui Agrigento. Oltre a questo dato, che riguarda soprattutto il settore dell'edilizia e dell'artigianato, un altro dato allarmante giunge dal settore malattie. In aumento sono infatti anche casi di asbestosi e mesotelioma pleuro, malattia correlata alle fibre di amianto con un correlato aumento dei decessi. Una situazione che necessita di misure di intervento in linea anche con quanto stabilito dalla legge 123 del 2007 e da una circolare ministeriale dell'agosto 2007, che sancisce l'importanza del controllo e della repressione, delle inadempienze e delle norme sulla sicurezza. Il dato regionale dà un incremento del 4%, che è comunque già preoccupante di suo. Noi stiamo analizzando e avremmo anche individuato le responsabilità e le cose che ci sono da fare. La responsabilità innanzitutto sta nella carenza di attività ispettiva delle ASL e poi sta nel fatto che le aziende investono poco in termini di sicurezza, in termini di formazione, ma anche in qualche caso i lavoratori hanno un eccesso di sicurezza o fanno troppe ore di lavoro straordinario che fanno abbassare la capacità di protezione e pongono a rischi. Noi abbiamo chiesto a servizio sanitario regionale, quindi all'assessorato regionale della sanità, di investire di più nella medicina preventiva e nella medicina del lavoro. Quindi bisogna potenziare gli organici, dare tutti gli strumenti per fare maggiore attività ispettiva nei luoghi di lavoro, ma anche formare i lavoratori, formare le imprese, aiutarli a garantire, investire in termini di sicurezza, ad esempio riammodernando gli impianti, mettendo impianti sicuri e infine provare anche a fare in modo che i rappresentanti e i lavoratori della sicurezza siano messi nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo, la propria funzione. È impensabile che mentre il dato nazionale degli infortuni è in calo, in Sicilia invece un incremento. Una parte di questo in verità si compensa con l'incremento occupazionale che c'è stato di circa due punti, ma questo incremento occupazionale c'è stato anche nel resto del Paese. Grazie a tutti.